Tesoro, ho una sorpresa per te! Sono incinta! Sei felice? Dove vai? Tesoro! Questi sono per te! E anche questi! Diventeremo genitori! Ciao! Chiudi gli occhi! Guarda cosa qui! Aspetta! Dove è andato? Cosa faccio adesso? Sarà scappato per sempre! Povera Carol! Ehi! Aiuto! Prego, si metta comoda! Vediamo come sta il bambino! Il bambino di Alice è già un modello! A pose è sempre sorprendente nell'ecografia E' come se fosse un servizio fotografico! E' una femmina! Sì! Veramente! E' adorabile! Ha già il suo primo vestitino! Bene, bene! Vediamo! Allora, Doc! Il bambino di Caroline odia le attenzioni! Si rifiuta di farsi fotografare! Non lo so! Si muove in continuazione! Ma cosa intende? Non riesco a vedere niente! È sfocato! Allora, è un maschio, vero? Il bambino si nasconde! Non è chiaro! Non essere triste! Lo scopriremo presto comunque! È difficile scegliere delle buone scarpe quando sei incinta! Non puoi correre sui tacchi alti come facevi una volta! Nessuna di queste scarpe va bene! Wow! Wow! Ecco le scarpe perfette! Ti piace un amore? Prepararsi per una passeggiata richiede tempo e fatica per Carol! Andiamo! Ops! Che mi metto adesso? Una buona colazione abbondante è il pasto più importante della giornata per mamme e bambini! Aspetta! Devo provarlo prima! Sembra fresco! Sì, ci sono! Ehi, avvicinamelo! Andiamo, andiamo! Ci sono! Perché a me? Oggi decisamente non è il mio giorno fortunato! Quando ti avvicini al grande giorno ogni singolo movimento sembra una tortura! Oh no! Ti prendo! Tesoro! Mi hai chiamato! Portami un bastoncino e il nastro adesivo! Va bene! Ma che ti serve? Grazie! Puoi andare! Non male! Senti, voglio chiederti cosa stai facendo? Puoi spostarlo! Non vedi? Ho un cucchiaio lungo! Ah, ormoni! Corri! E' nel sentire! Sì, sì! Mettici il telefono! Ma vediamo com'è! Mi chiedo cosa stia facendo! È la tua mossa, gran maestro! Vediamo se ti piacerà! Il bambino di Alice e Sam sta imparando a giocare a scacchi in attesa di nascere! I genitori sono proprio fortunati! Davvero dolce! Amore, vieni qui! Si sta muovendo! Ascolta! Il bambino di Carol vuole giocare a Twister con i suoi genitori! Che sfortuna, mamma! Costole! Ottimo! Ah, mi sta picchiando! Aia! Quale sarà il prossimo? Saltare sulla vescica! Ma è forte! Torno subito! C'è sempre la fila al bagno delle donne ma Alice è troppo incinta per aspettare così a lungo Guarda, è incinta! Prego, vai! Grazie mille! Anche Carol ha sogno di entrare ma sembra che nessuno si accorga che è incinta Andiamo su! Ci vuole così tanto! Non ce la faccio più! No, no, ferma lì! Pulizie! Mi sta prendendo in giro Il bambino sta crescendo e per Alice è sempre più difficile fare le faccende Devo appendere tutti questi Che fortuna! Tutti i vestiti sono sulle grucce Magia! Ma i vestiti sono sempre sparsi per la stanza Il pancione rende difficile raggiungere il pavimento Andiamo! Ci sono quasi! Ora posso prenderti Ecco fatto! Cosa ho fatto per meritarmi questo? Sam se la pulisce da solo Devo fare pratica Faccerò tutti Non mi sfuggirete Bambola Orso E anche mio marito Ottimo lavoro Davvero un ottimo lavoro Sono pronte per avere il mio bambino Resisti tesoro Imparerò a fasciarti Per prima cosa mi eserciterò sulla bambola Dove va questo? Piego qui? E questo da dove viene? Non riesco a capire Ma le mamme non dovrebbero arrendersi Ci riproverò Oh no! Mi sono affasciata da sola Aiuto! Carol ha trovato una bella panconota mentre sceglieva gli spuntini per stasera Uh Vieni da mamma Sfortunatamente il suo pancione non le permette di prenderle Perché sta facendo questo caos? Ups È stato un incidente Vada fuori Fuori Tocca sempre rimettere a posto le cose degli altri Qualcuno ha perso i soldi Alice ha tanta voglia di caramelle ma non ha molti soldi E se le nascondessi sotto la maglia non se ne accorgerà nessuno Ci sono telecamere ovunque Mi potrebbero arrestare Sarebbe orribile Credo che questi siano suoi Miei Grazie Ora Alice può permetterci un'intera montagna di caramelle Dove lo metto il piatto? Il mio pancione è tornato utile È fantastico Uh Lo tengo io mamma Adesso mi metto qui bella comoda Mangia con me piccolo mio No mamma Mettili via Ups Ok Non spingere Adoro guardare i film con i popcorn No Questo è il mio spazio privato Ti sono piaciute le nostre mamme in dolce attesa affortunate e sfortunate? Allora Premi iscriviti Metti like a questo video e clicca sul campanello Non perdere nessuno spettacolare video di Woohoo Wooamosson Grazie a tutti